Benvenuti a tutti, rieccoci con l'evento di Sottosopra che per questioni tecniche doveva essere una diretta e purtroppo abbiamo dovuto interromperla. Però recuperiamo qua, io sono Fulvio Scaglione e stasera l'argomento di questo evento della pagina di geopolitica di Sottosopra è dedicata ai BRICS, a questo gruppo di paesi, ricordiamo quali sono, BRICS è un acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, questo gruppo di paesi che in qualche modo si pone come un'alternativa al, chiamiamolo così, ordine mondiale stabilito in vigore da molti anni che è sostanzialmente basato su una alleanza, stretta collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Europa. Parliamo di tutto questo stasera con un graditissimo ospite, Federico Giuliani, che è già collegato con noi, collega, giornalista, giovanissimo come vedete ma che ha già fatto molte cose, collabora con il giornale, con Inside Over e ha scritto già quattro libri che vado a citare, Corea del Nord, Viaggio nel paese bunker del 2018 e gli invidio moltissimo questa esperienza in Corea del Nord, onestamente, poi La rivoluzione ignota dentro la Corea del Nord del 2019, Geopolitica dei vaccini, è qui abbastanza intuitivo che si tratta di un libro del 2021 e poi dritto sul nostro tema L'orso e il dragone, un'intesa per cambiare il mondo, ovvero questa collaborazione che si è incentivata moltissimo negli ultimi tempi tra la Russia e la Cina e come dice il titolo del suo libro, appunto, per cambiare il mondo. Benvenuto Federico, grazie per essere qui, grazie del tuo tempo, della tua competenza. Io partirei, anche se rischia di sembrare un pochino, come dire, pedagogico, un pochino piatto come inizio, però ti chiederei proprio di ricordarci come nascono i BRICS, quando nascono, qual è la loro ragione di essere nel momento in cui, appunto, decidono di, in qualche modo, unire le proprie sorti. Intanto buonasera, buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Dunque, cercando di essere il meno accademico possibile, partiamo subito dall'acronimo. L'acronimo BRICS non nasce BRICS, nasce BRIC, cioè senza la S. Questo perché in un primo momento siamo... Russia, India e Cina. Il Sudafrica si è aggiunta in un secondo momento. Questo termine, come dicevo, è apparso per la prima volta nel 2001 in una relazione della banca di investimento Goldman Sachs a cura di Jim O'Neill. Questo acronimo non aveva in un primo momento un connotato particolarmente né negativo né positivo. Era sostanzialmente un gruppo di mercati emergenti che, in quegli anni, per motivi economici e demografici, erano dotati di mercati convenienti, erano dotati di ambienti convenienti nei quali investire sia in attività reali che in titoli finanziari. Diciamo che questo BRICS, poi diventato BRICS, altro non era, nasce come una sorta di etichetta di marketing, una sorta di pacchetto di paesi nei quali era conveniente investire. Quindi questa è la nascita. Poi ci sono state numerose trasformazioni da un connotato prettamente economico ad uso e consumo di altri dell'Occidente. I BRICS si sono compattati in un mondo altro, in una sorta di alternativa all'ordine globale sostenuto da G7, da Stati Uniti e quindi da Unione Europea e potenze atlantiste. Ci saranno ancora delle trasformazioni, altre sono in corso d'opera perché i BRICS si potrebbero e si dovrebbero allargare molto presto, includendo altri paesi, sia dell'America Latina che dell'Africa e probabilmente dell'Asia. Quindi ci sono lavori in corso, diciamo così. Ecco, questi paesi che quando si sono agglomerati sembravano tutti sulla strada di un'esplosione economica, di uno sviluppo impetuoso, poi in realtà hanno avuto vicende alterne, non tutte così positive, non tutte così in crescita. Però non di meno, se non sbaglio, chiedo conferma a te, oggi il prodotto interno lordo dei paesi BRICS equivale più o meno, o ha addirittura superato, quello del G7. È un dato abbastanza importante, è un dato abbastanza epocale, direi. Beh, i numeri sono emblematici, stiamo parlando potenzialmente di un gruppo che ha una potenza di fuoco enorme e che ne avrà sempre di più, questo però in linea teorica. I numeri ci dicono che, e me li sono annotati, che attualmente i cinque membri di questo gruppo, di questo acronimo, ospitano circa il 30% della superficie terrestre totale del mondo e il 41% della sua popolazione, quindi quasi la metà dell'intera popolazione. Contribuiscono, e questi sono dati più economici, circa il 16% del commercio mondiale e costituiscono il 24% del PIL globale. Stiamo parlando quindi di numeri importanti, ma che, e questo diciamo è un aspetto che è importante sottolineare, non rispecchiano il loro peso geopolitico all'interno di questo, dell'attuale ordine globale, che altro non è che il figlio dell'ordine costruito al termine della seconda guerra mondiale, quindi a uso e consumo del mondo occidentale, quindi degli Stati Uniti, del dollaro e di tutti i partner degli Stati Uniti. Non c'è quindi un equilibrio tra il peso specifico, tra la potenza di fuoco incarnata dai BRICS e dal loro ruolo attivo nel mondo. Soltanto la Cina ultimamente, negli ultimi anni, è riuscita con la sua ascesa poderosa a diventare una concorrente plausibile degli Stati Uniti. Gli altri invece hanno avuto fortune abbastanza deprimenti, se pensiamo all'India, che è dal 2000, che comunque si parla sempre di questo miracolo indiano che non è mai avvenuto, peggio ancora è andata al Brasile, al Sud Africa, la Russia poi è stata tagliata completamente fuori dal mondo occidentale per via dello scoppio della guerra in Ucraina, quindi la Cina è l'unica che ha mantenuto le attese e che continua a portare avanti la sua ascesa. Aggiungo solo un'ultimissima cosa, rispetto ai primi anni 2000, cioè agli anni in cui si è creato questo acronimo, c'è stato un cambio abbastanza repentino di concezione dei BRICS stessi, perché in un primo momento questi paesi erano dei paesi che potevano essere trainati, trasportati nel mondo occidentale, quindi secondo l'accezione di numerosi analisti occidentali sarebbero presto diventati, questi paesi sarebbero diventati democratici, avrebbero abbracciato gli usi e costumi occidentali e via dicendo, quindi erano buoni, tra virgolette. Poi si è scoperto che non sarebbe andato così, l'emblema ancora una volta è la Cina, la Cina che si credeva che includendola nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e quindi includendola all'interno di tutte queste architetture che ho citato poco fa, si sarebbe, come dire, avrebbe lasciato perdere il suo sistema politico-economico, sappiamo, partito comunista cinese, quindi piani quinquennali e via dicendo. Non è successo niente di tutto questo e oggi i BRICS, alcuni, quasi tutti, sono considerati cattivi se non paesi altri rispetto all'Occidente. Sicuramente la Cina e la Russia sono considerati chi un rivale sistemico, chi un nemico del blocco occidentale. L'India è, teoricamente come il Brasile, un partner degli Stati Uniti, però navigano sempre in questa ambiguità, cercando comunque di portare avanti i loro interessi nazionali, praticando quella che una volta veniva definita terza via e poi abbiamo il Sudafrica che ha perso completamente, diciamo, la rilevanza che aveva, che si pensava avesse nei primi anni 2000. Quindi questa è una panoramica in itinere dei BRICS. Ecco, tu hai citato, hai pronunciato la parola dollaro che ha molta importanza e su cui torneremo naturalmente in questo nostro incontro. Però adesso ti volevo chiedere, alla luce di quanto hai appena detto, possiamo giungere alla conclusione, forse un po' rosa, che pecca di eccesso di sintesi, che oggi il paese è leader dei BRICS e la Cina, che la Cina esercita una qualche leadership sui BRICS? Beh, dal mio punto di vista, sì, anche se loro, i cinesi stessi, anche tutti gli altri paesi BRICS, non diranno mai che c'è un paese leader del gruppo, ma è evidente che la Cina sia il volto. Cioè, se dovessimo dire o individuare un volto di questo gruppo, sicuramente coinciderebbe con quello di Xi Jinping, con il presidente cinese, e per motivi anche abbastanza ovvi. Vladimir Putin è stato, come dire, tagliato fuori dalla diplomazia, in Brasile Lula è appena stato eletto, ma non ha il peso di Xi Jinping, è lo stesso come Narendra Modi è anche il leader sudafricano. Quindi la Cina è senza ombra di dubbio il paese leader dei BRICS e cercherà di fare leva su questo, collaborando e cooperando quando con l'uno, quando con l'altro paese del gruppo, cercando di internazionalizzare la propria moneta, lo UN, e di conseguenza di picconare il peso del dollaro all'interno dell'economia globale. Questo, se andiamo a vedere, è uno dei minimi comuni denominatori che accomuna tutte queste nazioni, cioè la volontà di picconare il dollaro per cercare di sostituirlo con qualcosa di altro, con un'altra con un'altra valuta. Ad oggi questi sono discorsi ancora abbastanza stratti, però quello che è concreto è che la moneta cinese sta prendendo sempre più spazio e per motivi e per contingenze che sono sotto gli occhi di tutti. La guerra in Ucraina paradossalmente ha spinto sempre di più il sistema economico russo verso la Cina e per un motivo preciso la Russia non può più maneggiare i dollari nei mercati internazionali di conseguenza doveva in qualche modo ancorarsi a qualcos'altro. La Cina dal contempo era ben felice di espandere lo yuan negli scambi commerciali e quindi c'è stata una complementarietà a questo matrimonio di comodo che ha partorito uno yuan più internazionalizzato. Poi per sottolineare sempre il legame tra BRICS e dollaro bisognerebbe secondo me citare rileggere le parole di Vladimir Putin nell'ultimo incontro con Xi Jinping. Putin ha detto chiaramente che la Russia da quel momento in poi sarebbe stata disposta ad accettare lo yuan come moneta come valuta per gli scambi commerciali con i paesi di Asia America Latina e Africa. Di conseguenza fare questo passo vuol dire legittimare lo yuan e considerando e questo è l'ultimo passaggio da fare che la Russia intrattiene attualmente relazioni commerciali solamente con paesi o appartenenti ai BRICS o comunque paesi in via di sviluppo che una volta avremo racchiuso sotto l'etichetta dei paesi della terza via questo è evidente come i BRICS tornino alla ribalta oggi e lo facciano con una potenza potenzialmente scusate la ripetizione ancora più forte rispetto al passato perché dai primi quattro paesi BRICS siamo passati ai BRICS con il Sudafrica e oggi stiamo ragionando di ciò che potrà avvenire nei prossimi anni perché abbiamo una lista di paesi che alcuni hanno già fatto richiesta altri potrebbero entrare e stiamo parlando di paesi che controllano risorse energetiche che controllano idrocarburi gas di conseguenza che possono avere un peso molto importante anche sulla sulla nostra vita di noi che viviamo in occidente in questi paesi giusto per citartene alcuno a qualcuno posso dirti Arabia Saudita Iran Iran e Argentina hanno tra l'altro già presentato una hanno annunciato di aver presentato una richiesta formale si parla dell'Arabia Saudita si parla della Nigeria uno dei paesi che in Africa ha un tasso demografico più alto e che potenzialmente potrebbe in futuro avere un peso sempre più importante si parla dell'Indonesia un altro paese che ha potenzialità enormi si parla delle Emirati Arabi Uniti del Kazakhstan dell'Egitto quindi della Thailandia stessa stiamo parlando quindi di un gruppo di paesi che sulla carta potrebbe mettere in seria difficoltà l'Occidente a maggior ragione concludo il ragionamento nel caso in cui l'Occidente decidesse di portare avanti l'attuale transizione energetica cosa dovrebbe fare in quel caso servono risorse materie prime che sono controllate da questi paesi qua che ho elencato quindi di conseguenza potremmo assistere a un riequilibrio a un rimescolamento dell'ordine geopolitico e i BRICS o chi per loro come si chiameranno non lo sappiamo saranno sicuramente un'alternativa valida se non concreta a quella che siamo abituati a conoscere con gli Stati Uniti con l'Unione Europea via dicendo c'è anche il tema per esempio un'altra arma di questi paesi sono le le terre rare che sono un altro capitolo importante della loro leva sull'economia mondiale però io ecco qui ti volevo dire questo io mi occupo un po' più di Russia che di BRICS e in Russia si è parlato per molto a lungo per anni di questo progetto di dedollarizzazione dell'economia eccetera a me sembrava un pochino onestamente velleitario però gli eventi drammatici degli ultimissimi anni hanno cambiato lo scenario ed è per esempio proprio di oggi la notizia che la Francia ha pagato in yuan una fornitura di 65.000 tonnellate di gas liquido che arriva dagli Emirati paese che tu hai citato ma che viene venduto da una grossa società cinese anche per esempio tra l'Arabia Saudita e Cina ci sono degli accordi o comunque degli abbozzi di accordi per usare lo yuan l'Iran la Russia l'hai già detto tu cioè insomma alla fine questa cosa della dedollarizzazione sta un pochino crescendo come la vedi tu siamo uno stadio iniziale o c'è qualcosa di serio che deve preoccupare gli Stati Uniti ma secondo me c'è qualcosa di serio che deve preoccupare gli Stati Uniti perché in un primo momento parlando di BRICS spesso negli ambienti accademici ci si riferiva a questo tra virgolette carrossone di paesi in via di sviluppo una sorta di alternativa all'occidente una sorta di alternativa mitica e mistica in realtà poi si è capito ben presto che di mistico c'era ben poco gli Stati Uniti e l'occidente in generale si sarebbero presto trovati davanti un gruppo di paesi con i quali volenti o nolenti sarebbe stato necessario interagire e interagire in maniera intelligente anche perché nella lista di questi paesi ce ne sono molti che storicamente sono sempre stati vicini agli Stati Uniti pensiamo all'Arabia Saudita e questi stessi paesi sono quelli che detengono chi le terre rare chi il petrolio chi il gas di conseguenza c'è un peso specifico che diventa sempre più consistente che si intreccia al tema della dedollarizzazione perché se tra questi paesi e stiamo parlando di paesi ho citato l'Indonesia ho citato la Nigeria senza parlare di Cina di India stiamo parlando di paesi che hanno mercati interni potenzialmente enormi se paragonati ai nostri formati da centinaia di milioni di persone quindi se questi incominciano tra di loro a fare commerci a stringere accordi e accordi si va di bene che favoriscono questo mondo altro rispetto all'Occidente e allora l'Occidente lì deve preoccuparsi gli Stati Uniti devono preoccuparsi anche perché al momento la maggior parte degli scambi commerciali tra i paesi viene si effettuato mediante il dollaro ma un domani non sappiamo certo è che questo processo questo procedimento di dedollarizzazione sarà lunghissimo sarà lungo non stiamo parlando di un qualcosa destinato ad avvenire così dall'oggi al domani sarà un qualcosa di lungo io prima di assistere alla dedollarizzazione credo che si assisterà ad una internazionalizzazione dello yuan cioè mentre il dollaro dovrebbe perdere l'accesso a una serie di opportunità commerciali dall'altro lato lo yuan potrebbe inserirsi in mercati ricchissimi sia da un punto di vista demografico che da un punto di vista commerciale c'è stato un accordo recente tra Cina e Brasile sugli scambi in l'utilizzo degli yuan negli scambi commerciali la Russia stessa come detto ha accettato di utilizzare questa valuta cinese quindi diciamo la cosa è molto concreta e il Deus Ex Machina dal mio punto di vista potrebbe coincidere con la Cina che aveva avviato questo processo di dedollarizzazione questo lento picconamento del dominio del dollaro con la via della seta perché in un primo momento prima che il covid scombussolasse mescolasse le carte della leadership cinese mediante la Belt and Road questo maxi progetto infrastrutturale che avrebbe dovuto connettere le economie della Cina con Europa e Africa questo grande progetto avrebbe dovuto spingere all'internazionalizzazione dello yuan perché ciascun paese aderente alla la Belt and Road avrebbe potuto richiedere prestiti cinesi per realizzare infrastrutture quindi strade aeroporti porti e via dicendo la Cina avrebbe messo sul piatto la sua la sua valuta però diciamo il progetto è ancora in corso ma si è ridimensionato rispetto alle istanze iniziali per colpa del covid però quella è stata a mio avviso il la prima pietra della di una concreta di un concreto tentativo di dedollarizzazione ora questi nuovi accordi che sta portando avanti Xi Jinping quelli con l'Arabia Saudita quelli con l'Iran quelli con i paesi africani quello con la Russia tutte queste tutta questa ragnatela diplomatica dovrà costituire il secondo step quindi unendo tutto ci troveremo di fronte a una ragnatela diplomatica oliata dalla Belt and Road e alimentata da altre organizzazioni parallele a quelle occidentali cito ad esempio l'organizzazione della cooperazione di Shanghai cito poi l'unione euroasiatica cito altre unioni e associazioni pronte a finanziare progetti comuni non probabilmente presumibilmente con il dollaro ma con lo yuan o con una valuta altra però in ogni caso stiamo parlando di qualcosa di potenzialmente concreto di qualcosa in divenire ecco tra l'altro una cosa che forse non tutti sanno è che in questo processo di mimesi per cui i BRICS si organizzano in qualche modo corregimi se sbaglio mutuando le stesse strutture del mondo tra virgolette che vorrebbero sostituire cioè del mondo G7 diciamo ecco in questo processo di mimesi i BRICS si sono anche dotati di una banca e di un fondo di riserva per i membri in difficoltà che corrisponde alle istituzioni finanziarie a cui si appoggia grossomodo il mondo occidentale diciamo un qualcosa di speculare rispetto a quanto proposto dal blocco occidentale dal mio punto di vista però più che concentrarci sui fondi sulle banche e via dicendo dovremmo concentrarci sulla modalità di relazione diplomatica tra questi attori e in particolare mi riferisco al diciamo al peso che ha la Cina perché comunque tutto quello che viene creato tutto quello che viene portato avanti dai BRICS è sempre più con caratteristiche cinesi quindi l'influenza della Cina nell'organizzazione dei rapporti diplomatici nell'organizzazione degli scambi commerciali in tutto quello che diciamo deve formare un'architettura altra rispetto all'occidente rispecchia le esigenze cinesi poi loro Pechino è sempre attentissima a sottolineare l'importanza della cooperazione del mutuo soccorso della relazione win-win e via dicendo il punto è che oggettivamente la Cina in virtù della sua posizione come abbiamo spiegato prima cercherà di fare leva su questo per ritagliarsi uno spazio sempre più grande e in questo gioco di specchi uno dei rischi è che la Cina possa sostituire gli Stati Uniti per questi paesi BRICS cioè così come gli Stati Uniti sono un po' come dire il perno centrale dell'ordine occidentale in questo altro ordine la Cina può essere il sole di questo sistema il sistema solare è positivo è negativo questo poi bisognerà vederlo vederlo sul campo certo è che la Cina ha già coniato dei concetti ideologici che vanno a sposare l'obiettivo dei BRICS io penso alla comunità umana dal futuro condiviso se leggiamo i documenti cinesi se leggiamo i giornali cinesi o ascoltiamo la leadership del partito comunista cinese loro ripetono spesso comunità umana dal futuro condiviso per loro è una sorta di comunità internazionale all'interno della quale ciascun paese ha lo stesso peso e tutti si trovano sullo stesso piano all'interno della quale vige un rapporto di mutua assistenza di un aiuto reciproco per superare i problemi globali e che cos'è questo in teoria dovrebbe essere una sorta di BRICS moltiplicato in grande quindi a includere tutto tutto l'ordinamento globale è un piano molto ambizioso però diciamo che loro cercano di miniaturizzare i loro concetti all'interno dei BRICS poi bisognerà vedere cosa succederà con i BRICS bisogna vedere se Xi Jinping riuscirà a non perdere l'opportunità di far ripartire le relazioni diplomatiche al cento per cento con l'Europa di sbloccare l'accordo con gli investimenti sempre con l'Unione Europea il famoso Conference of Agreement Investment congelato in seguito poi alle polemiche che sono scaturite sulla situazione degli Uiguri tra Bruxelles e Pechino bisognerà vedere appunto cosa succederà da questo punto di vista ma io credo che la peculiarità da un punto di vista diciamo superficiale è corretto ci sarebbero due ordini speculiari uno capitanato dagli Stati Uniti uno dalla Cina la cosa che però veramente li differenzia è l'organizzazione del tutto cioè sono gli ingredienti il piatto può essere lo stesso ma gli ingredienti sono completamente diversi perché la filosofia stessa diplomatica cinese il modo di intrattenere rapporti di tenere insieme una partner e quant'altro è completamente diverso rispetto a quello occidentale basta vedere poi quello che succede tra Cina e Russia e il rapporto che c'è tra Cina e Russia per molti commentatori nostrani è un qualcosa di logico perché è impossibile che un paese dell'Unione Europea o degli Stati Uniti crei una partnership con un paese diciamo così diverso come la Cina sta facendo con la Russia quindi loro cercano di portare avanti questo progetto diplomatico molto particolare e non sempre compreso in Occidente quindi tutto questo verrà ristrutturato all'interno dei BRICS e vedremo dove porterà dunque in agosto se non vado errato i BRICS si riuniscono in Sudafrica no? che cosa ti aspetti che possa succedere da questa riunione? Per esempio l'ingresso di nuovi paesi per esempio decisioni importanti che cosa che cosa prevedi? Beh dunque allora è difficile prevedere cosa accadrà per un motivo molto semplice tutto sarà collegato anche alle vicende ucraine dal mio punto di vista però è plausibile lecito supporre che i BRICS possano gradualmente allargarsi ora non so se durante il prossimo incontro ci saranno annunci ufficiali se Iran e Argentina aderiranno ufficialmente a questo gruppo o meno però sicuramente sarà lanciato un messaggio molto forte perché per un motivo molto semplice negli ultimi mesi la Cina la Russia e il Sudafrica hanno effettuato delle esercitazioni militari la Cina e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione l'India continua nonostante sia storicamente tradizionalmente una cerrima rivale di Pechino continua ad avere una posizione diversa rispetto a quella che auspicherebbe avesse gli Stati Uniti quindi stiamo parlando di paesi che si compatteranno sempre di più quindi io anziché diciamo immaginare degli annunci roboanti credo piuttosto che durante il loro prossimo incontro ci possa essere una sorta di spostamento delle partnership reciproche e questo per cercare di gettare delle fondamenta solide per poi proseguire con la dedollarizzazione proseguire con nuove cooperazioni proseguire con l'ingresso di nuove realtà però deve essere un procedimento step by step perché inserire subito nuovi paesi è deleterio ecco secondo te qual è il rischio perché gli Stati Uniti ovviamente non sono inerti non restano lì a guardare vediamo come sono degenerati i loro rapporti non dico con la Russia che è un discorso un po' diverso ma con la Cina sicuramente sì ecco come può reagire secondo te la leadership americana a questo che appunto come abbiamo detto prima anche più di una volta non è più evidentemente solo un progetto di sviluppo ma è un progetto di costruzione di un'alternativa alla struttura politico diplomatica internazionale finora esistente beh dunque la reazione la reazione dovrà comunque cioè gli Stati Uniti dovranno accettare ciò che avverrà anche perché diciamo così di fronte a paesi che hanno che rischiano di avere un peso specifico sempre maggiore è diciamo è controproducente battere i pugni sul tavolo applicare sanzioni o quant'altro è stato già fatto con la Russia ma perché comunque la Russia è coinvolta in una guerra calda e non fredda ma fare lo stesso con la Cina o con l'India o con altri membri dei BRICS o di chi accederà poi a questo gruppo sarebbe un suicidio l'unica cosa che mi chiedo e mi domando è cosa succederà come si trasformeranno le relazioni tra gli Stati Uniti e i loro partner che fanno parte anche dei BRICS cioè Brasile e in questo momento India e in parte anche poi Sudafrica ma soprattutto Brasile e India perché ricordiamo che l'India è uno dei partner americani in Asia più volte Washington ha fatto leva sul Nuova Delhi per cercare di contenere l'ascesa cinese e poi anche con il Brasile perché i rapporti tra Brasile e Stati Uniti soprattutto poi durante l'era di Bolsonaro si sono consolidati ora con Lula probabilmente ci sarà una nuova accelerazione verso il multipolarismo però è secondo me curioso chiedersi cosa succederà cosa succederà con questi paesi perché mentre il Brasile e l'India dal mio punto di vista sarebbero anche disposti a tenere tra virgolette i piedi in più scarpe cioè nel fare affari con Cina Russia e altri membri BRICS e di continuare ad intrattenere rapporti con gli Stati Uniti dall'altro lato non penso che gli Stati Uniti vedranno di buon occhio una realtà del genere a maggior ragione se il peso specifico della leadership cinese in questo club dovesse ulteriormente crescere perché a quel punto gli Stati Uniti si ritroverebbero loro accerchiati da un gruppo di paesi che in teoria potrebbero metterli in seria difficoltà questa è sempre teoria perché poi dall'altro lato c'è un problema se queste potenzialità si concretizzeranno in atti reali concreti ecco c'è anche un elemento geografico da tenere in considerazione io penso questo che per esempio se dovessero entrare nei BRICS come tu hai detto giustamente non domani forse neanche dopo domani però dico dovessero entrare paesi come l'Algeria o come o come l'Egitto in un'Africa dove c'è stata una notevole espansione cinese dove c'è anche un tentativo di espansione russa e dove comunque c'è già un paese BRIC come il Sudafrica già questo sarebbe una grossa cosa dal mio punto di vista e idem come sopra in Medio Oriente dove la Russia ha buoni rapporti con parecchi paesi è anche un paese dell'OPEC plus dove la Cina sta costruendo delle relazioni in attese ecco dovessero entrare che so Iran e Arabia Saudita o Emirati Arabi Uniti per fare il nome di paesi che stanno vivendo anche un disgelo delle relazioni reciproche certamente le cose si farebbero come si dice gergalmente spesse cioè acquisirebbero anche geograficamente un'altra importanza beh l'importanza sarebbe dal punto di vista geografico senza ombra di dubbio perché stiamo parlando poi di paesi situati situati in regioni altamente strategiche come hai detto tu il Medio Oriente tradizionalmente eh statunitense prevalentemente controllato dall'influenza statunitense e poi anche tutta la tutto il Maghreb quindi parliamo di paesi che da un punto di vista geografico avrebbero un peso importante ma ancora di più lo avrebbero da un punto di vista eh commerciale geopolitico perché immaginiamo quello che potrebbe succedere nel caso in cui Algeria Egitto Iran dovessero far parte dei BRICS nel caso in cui questo progetto dovesse poi decollare si creerebbe una sorta di mezzaluna che andrebbe da dall'Algeria passerebbe dall'Egitto continuerebbe con con l'Iran e andrebbe a collegarsi poi Asia centrale Russia e quant'altro cioè staremo parlando qui di un di un futuro che per per gli Stati Uniti e per l'Occidente in generale non sarebbe particolarmente favorevole anche perché poi in mezzo ci sarebbe l'Arabia Saudita e con il suo Petro Stiamo parlando di prospettive che dovrebbero seriamente spingere gli Stati Uniti e in generale l'Occidente a controbilanciare l'offensiva diplomatica della Cina in ottica BRICS in questo caso ma nel suo complesso nella sua ottica più generale a proporre un'alternativa diplomatica ci stanno già hanno già cercato di far qualcosa in Africa con l'ultimo viaggio di Kamala Harris ha visitato alcuni paesi ha cercato un po' di promettere qualche aiuto però l'influenza cinese in Africa è bella solida da diversi anni e da prestiti a pioggia quindi sarà difficile scardinare la loro presenza però questo dovranno fare i paesi occidentali le potenze occidentali dovranno proporre un qualcosa di alternativo che non sia più legato solamente all'interesse di sottomettere qualcun altro ma di collaborare con qualcun altro ecco chiuderei questa nostra conversazione questo incontro con una con un'ultima domanda che è questa e l'Europa l'Europa come si pone in questo specie di non lo so scontro tra giganti ecco non rischiamo di essere un po' il vaso di coccio in mezzo a questi vasi di ferro almeno dal punto di vista politico beh senza ombra di dubbio sì l'Europa rischia di fare la solita figura quando parliamo di queste tematiche geopolitiche cioè è difficile secondo me che l'Unione Europea l'Europa in generale possa avere una voce in capitolo se non allineandosi al diktat degli Stati Uniti quindi io credo che a cose normali e lo abbiamo visto anche nei rapporti con l'Iran con la Cina stessa l'Europa non avrebbe problemi particolari ad intrattenere rapporti con paesi terzi con una autori di una ipotetica terza via il punto è che gli Stati Uniti farebbero di tutto per impedirlo perché a quel punto andrebbero poi a perdere completamente la presa sul blocco geografico euroasiatico quindi io credo che l'Europa possa fare ben poco ma in generale in politica estera l'Europa può fare ben poco lo abbiamo visto anche in Ucraina non può fare niente di diverso rispetto a quello che intende fare Washington ok allora io Federico ti ringrazio tantissimo per il tempo e per le tante cose interessanti che ci hai detto ricordo che questo era un evento del canale geopolitica di tutto sopra e ringrazio naturalmente tutti quelli che sono stati all'ascolto di questa conversazione e che ritroveremo prossimamente io lo spero proprio ma ne sono certo in altri eventi che organizzeremo sempre su questo canale di sotto sopra grazie a tutti grazie ancora Federico e buona serata a tutti arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti